La malattia renale cronica è una condizione clinica di difficile diagnosi, spesso sottovalutata. I reni infatti non danno sintomi quando non funzionano e soltanto l'esecuzione di alcuni esami del sangue e delle urine possono consentire, nella maggior parte dei pazienti nefropatici, di identificare precocemente questa situazione. I pazienti a rischio cardiovascolare, cioè i pazienti con ipertensione, con il diabete, con l'obesità o gli anziani, sono soggetti particolarmente a rischio di avere una malattia renale cronica. Per scoprire che questo è vero bisogna purtroppo affidarsi all'esecuzione di esami del sangue, ve ne sono alcuni molto semplici come la misura della creatininemia che consentono di stabilire qual è il grado di filtrazione dei reni, se cioè è ridotto e di che gravità è eventualmente questa riduzione, o un semplice esame delle urine che si chiama valutazione dell'escrizione urinaria di albumina, cioè albuminuria, che consente anche questa di stadiare, di classificare la gravità della malattia renale. Tanto per avere qualche punto di riferimento, oggi si stima che circa il 10% delle persone nella popolazione in generale abbiano un qualche grado di insufficienza renale. E questo ha un significato non soltanto per quanto riguarda il rischio di peggiorare e arrivare fino alla necessità di un trapianto di rene o di sottoporsi al trattamento sostitutivo, cioè alla dialisi, ma anche perché più grave è la insufficienza renale e maggiore il rischio di avere un infarto o un ictus o queste altre condizioni tradizionali di tipo cardiovascolare. Oggi non abbiamo delle buone terapie per guarire dalla condizione di nefropatia cronica, ma è lo stesso importante identificare precocemente i pazienti nefropatici perché le terapie di cui disponiamo sono in grado di stabilizzare le nefropatie e rallentare o impedire la progressione, il successivo peggioramento che avviene di solito nell'arco di alcuni anni, sempre purtroppo in condizioni asintomatiche, verso la dialisi o verso la necessità di trapianto. Le terapie che più spesso sono efficaci sono le terapie per abbassare la pressione, per correggere i fattori di rischio cardiovascolare tradizionali, cioè il diabete se è presente, la dislipidemia, l'ipercolesterolemia. Oggi vi sono anche dei farmaci che sembrano offrire un effetto particolarmente forte di protezione renale. Sono stati sviluppati dapprima per i pazienti diabetici, ma oggi si comincia ad utilizzarli anche nei pazienti non diabetici e è auspicabile che nei prossimi anni, grazie all'utilizzo combinato di queste terapie, si possa modificare significativamente la storia naturale delle nefropatie croniche, che purtroppo per molti pazienti è ancora caratterizzata da un progressivo ma inesorabile peggioramento verso appunto gli stadi terminali.